Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiani. Dipende dalla latitudine e dalla longitudine in cui vi trovate. Benissimo. Ricordatevi di mettere like su 1, 2, 3 stream. Ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali, anche quelli Amadeus, anche quelli YouTube. All'ora di Amadeus, il salotto della Morghi e quelli che rogono. Abbiamo con noi un cantante che cantano. Non lo so se io lo chiamo per nome normale, poi ci spiegherà il perché. Filippo Ghiglione. Ciao, buonasera o buongiorno o buonasera. Dipende, dipende. Dipende a che ora uno ascolta. Esatto. Secondo te il tempo è importante oppure per ascoltare musica è una variabile assolutamente non importante? Io credo sia molto importante nel senso, inteso forse, ma no, in entrambi i casi, nel senso perché anche sia in tempo proprio di durata, nel senso che magari quando hai più tempo, no, che poi dedicate musica, ascolti magari cose diverse, l'ascolti con un mood diverso, ascolti anche canzoni diverse. Magari invece quando sei di fretta e hai voglia di staccare un attimo la mente, ascolti altro tipo di musica. E poi, a parte il tempo, diciamo così, di durata, anche il tempo meteorologico secondo me è importante perché io credo che la musica comunque tenda sempre a essere, anche se parte da un ascolto personale, connessa un po' col contesto intorno. Quindi magari se è una giornata come adesso qui a Roma con questa cappa di umidità pazzesca, magari ti viene voglia di evadere oppure voglia di entrarci ancora più dentro e quindi voglia di appunto seguire eventuali temporali, appunto, oppure no. Oppure se è una giornata di sole, ha voglia di ascoltare qualcos'altro, secondo me incide molto anche, più di quanto pensiamo forse anche sugli ascolti che facciamo, non so, cosa scegliamo più che altro, scegliamo cosa ascoltare secondo me. E poi, terza variabile, il tempo come occasione. Sì, sì, no, chiaro, nel senso che anche avere la possibilità di ascoltare certa musica, diciamo, in un determinato momento può essere un'occasione anche di crescita personale, anche di, come dire, capire qualcos'altro di sé. Nel senso, utilizzare il tempo stesso della canzone, cioè non farsi condizionare la data esterna, ma utilizzare il minutaggio stesso della canzone per scoprire qualcosa di più anche di te e anche del mondo che ti sta intorno, insomma. Quindi è un po' tutto connesso, diciamo, nel senso, secondo me, alla fine, quando si ascolta una canzone, volenti o non volenti. Eh, sì, però prova a ascoltare una canzone da innamorato, oppure prova ad ascoltare una canzone la stessa, la stessa, da appena ti sei lasciato con la stessa persona. Ebbè, qui diciamo che apriamo un capitolo molto, insomma, diciamo così, io tendo sempre a mettere molta emotività, non è quello che scrivo molto della mia storia personale, forse ancora di più adesso, con questo nuovo progetto che prima. Quindi sì, in realtà, inteso, il tempo è inteso come forse occasione, cioè momento della vita in cui sei, nel senso, quindi anche, secondo me, più che tempo è proprio anche un mix di altre cose, quindi è anche un momento emotivo, un momento emotivo in cui sei, un momento anche pratico, anche lavorativo, un momento di esperienza, insomma. Dipende tutto tantissimo da, ecco, una cosa su cui sono particolarmente ossessionato, io poi mi occupo di scrittura in generale, eccetera, è il, è la scelta, no? Nel senso che comunque anche quando, quando scrivi qualcosa, quando scegli di raccontare di qualcosa, devi per forza operare una scelta, no? Cioè, illuminare con un occhio di bue una porzione di un qualcosa potenzialmente di più grande, che è iniziato magari tempo prima e finisce tempo dopo al di fuori di questo cono di luce, no? E quindi quando ascolti comunque una canzone è una scelta e questo cono di luce illumina una porzione determinata di tempo, di contesto, quindi sì, cioè, insomma, ci sono tante variabili, secondo me, che compongono l'esperienza ascoltativa di una canzone. Il tuo nuovo progetto, i temporali, si sa che i temporali spostino masse d'aria, ma quante, ma quante, sì, vabbè, diventa semplice, è molto semplice, io non sono un etorologo. No, neanche io, lungi da me dare spiegazioni. Vorrei intervistarne uno perché, allora, la mia percezione è questa, io non guardo mai le previsioni del tempo e non porto l'ombrello quando piove, da buon gelovese. Esatto. Esatto. Allora, dicevo, spostano masse d'aria, ma le canzoni che, a parte la massa dell'aria emotiva, l'hai detto prima, che masse d'aria spostano? Le tue soprattutto. Ma le mie canzoni, parlando di mie canzoni, canzoni in generale, io credo che ci sia sempre uno spostamento che è per forza interiore, che però poi sfocia un po' nell'esteriorità, nel senso che io credo, e nell'ultimo periodo, poi negli ultimi concerti che ho fatto, eccetera, anche se questa è una cosa che funziona più quando suoni dal vivo, per forza, però la cosa più importante per me è riuscire a mettere in connessione, no? me stesso con le altre persone e le altre persone tra di loro. Mettere in connessione significa spostarle, beh, a parte emotivamente, anche fisicamente, cioè per venire a sentirmi suonare e a provare dal vivo queste cose, ma anche connetterle da un punto di vista di empatia emotiva, cioè semplicemente io canto queste cose perché anche tu possa ascoltare quello che ho da dire e se questa cosa risuona anche in te, il pensiero a io non sono solo, cioè tu che ascolti, dici, anche io sento questa cosa, io non sono solo, non mi sento più solo perché sento qualcun altro che dice questa cosa, anche appunto col contesto che dicevamo prima, e quello accanto a me sente la stessa cosa e si crea questa specie di connessione emotiva, quindi parliamo proprio di uno spostamento da questo punto di vista, poi è chiaro che certe canzoni, determinate canzoni possono creare uno spostamento anche di pensiero, anche di pensiero, di pensiero di vita, di orizzonti, di pensiero politico magari anche, ecco insomma, un certo tipo di scrittura. Nelle mie canzoni parto molto, parto spessissimo, penso sia una cosa comune, da me e da quello che c'è dentro di me, quindi è sempre un discorso molto, molto largo, anche se, insomma, quando sono passato all'italiano, questo è il primo progetto, quasi il primo progetto in cui canto e suono all'italiano, quindi è stato un po' un ritorno alla lingua madre, è stato un po' come un non riscoprirsi, non ritrovarsi, ne sentivo il bisogno da tanto tempo, quindi in qualche modo mi sono anch'io spostato un po' qua dentro, diciamo, per cercare il canale giusto, no? dal cui far uscire, da cui far uscire le parole, la musica, le canzoni, insomma, che sono tratte da esperienze, da esperienze personali. Sì, a questo punto mi viene da chiederti, vengono a chiederti tre cose. Uno, quanto le tue canzoni superi il confine della poesia. Due, se come cantautore o comunque cantante o comunque come compositore ti senti libero, e tre, quanto una canzone possa essere rivoluzionaria. Perché tu dici, parto da me. La generazione dei cantautori precedenti, tu sei a Roma, hai una seconda scuola romana con Fabi, Cristicchi, Gazze, eccetera, eccetera, ma una prima con De Gregorio e Venditti e Bassignano. Bassignano, ti direbbe che la canzone deve essere in qualche modo anche sociale? Qui si potrebbe aprire un dibattito interessante, ma andando con ordine alle domande che mi hai fatto, allora, ti direi la prima, io sono sempre stato più un fruitore più che di poesia, di narrativa. Narrativa sia scritta che sceneggiata, che filmica, perché forse è un sistema che ho sempre sentito un po' più mio per appunto quello che dicevo prima, anche se c'è un occhio di bue che illumina, andare a vedere un po' tutta la storia, insomma, creare tutta la storia. Poi in realtà mi sono un po' rimangiato la parola, perché, è interessante questa domanda, perché una delle canzoni dell'Eppi, la prima, La vita sognata, prende proprio il nome da una poesia, in realtà, di Antonia Pozzi, e c'è anche un estratto della poesia La vita sognata di Antonia Pozzi dentro. Però lì era una commissione più che altro mia personale, perché casualmente è stata una specie di gioco del destino, perché ho letto quella poesia che lei metteva in questa raccolta, in ogni poesia c'è il luogo dove sono state scritte queste poesie, lei era una grande amante della montagna e frequentava luoghi che frequento anch'io, quindi è stata scritta più o meno negli stessi luoghi dove mi trovavo in quel momento, quando l'ho letta, ed è quelle cose appunto, in quell'occasione emotiva che ha scatturito una serie di cose. Tra l'altro una canzone, stranamente, che parla molto di metafore marinare, anche se lei parlava di montagna. Quindi in realtà, come vedi, è tutto un sbugiardarsi sempre. Io la poesia l'ho sempre intesa in realtà come poesia su carta, cioè nel senso, io ho sempre pensato, forse sarà un po' un pensiero personale, però che la poesia in sé, cioè, si può effettivamente declamare, insomma, recitare dal vivo, ma credo sia uno strumento fatto esclusivamente per, anche come è scritto meccanicamente, anche come è concepito, anche come per essere fruito in silenzio, non so come dire, da una lettura interiore. E quindi la canzone, secondo me, è comunque un mezzo diverso, che travarica comunque questi limiti. Se io mi sento libero, io penso di sì, cioè io a livello personale penso di sì, nel senso che, personale e generale, nel senso che se vogliamo, e qui appunto si sfocia nel discorso successivo di cui parlavi, adesso sicuramente c'è una scena musicale che è tutto il contrario di tutto, nel senso che è tutto estremamente liquido, ma adesso, anni che è così, però in questi anni particolarmente, tutto estremamente liquido, tutto cambia molto, e sicuramente ha cambiato tutto, anche il perimetro di difluizione, nel senso che lo sappiamo tutti, però se c'è una cosa, secondo me, positiva, che forse questa cosa ha portato, è quella che, secondo me, certi cantautori possono essere, sentirsi veramente liberi di scrivere, pubblicare quello che ritengono, perché basta che lo facciano di per sé, senza che ci sia una casa discografica di mezzo, che magari gli fa dire determinate cose, o non gli fa dire determinate cose, gli fa seguire il mercato piuttosto che no, poi è chiaro che sono canzoni che magari non ascolterà nessuno, o quasi nessuno, però la libertà di poter dire, scrivere quello che vuoi, senza anche minutaggio, cioè una volta, quando le canzoni passavano in radio, c'era bisogno, e ti dicevano, eh, il ritornello deve arrivare entro un minuto, cioè queste cose. Sì, sì. Quindi secondo me c'è, in realtà io mi sento molto libero da questo punto di vista, certo, se vogliamo poi fare un discorso di carriera, eccetera, è tutto estremamente diverso, ma perché ovviamente, creare una carriera musicale in questo campo è molto più complesso, però a livello di libertà personale, secondo me ci sta. L'ultimo discorso che fai è interessante, perché sono sicuramente due scuole di pensione di generazioni forse differenti, ma perché anche c'era tutto un insieme di cose, di coscienza sociale, di ambiente esterno, di consapevolezza forse diverso rispetto a quello che era la generazione di cantautori successivi, e che è la generazione di cantautori adesso. Io, per esempio, tutto il mondo comunque di come funziona la generazione, diciamo, di oggi, di quelli che sono magari, che si affacciano, diciamo, alla vita adulta, una vita consapevole, è molto lontana da quello che sono io, quello che prurisco io, anche banalmente, poi essendo banale tutto il mondo di TikTok, eccetera, però è un linguaggio comunque generazionale, è una cosa che magari io non capisco, però è una cosa propria di loro. Secondo me, sai, la canzone, è vero questa cosa, cioè, secondo me dire che una canzone deve avere per forza un valore anche sociale, può rischiare a volte di essere un po' riduttivo, nel senso che se è vero da una parte che magari una canzone dovrebbe, secondo me, scuotere più che altro gli animi, che siano gli animi a livello intimo, che siano animi a livello, come dire, più condiviso da tutti, è un conto. Dire che una canzone deve essere esclusivamente così, ci sono certe canzoni che hanno quel determinato significato, quel determinato scopo, forse, che sono state scritte per un determinato bisogno, che però alla fine nasce comunque da un bisogno personale, perché comunque, secondo me, anche nei cantautori che citavi tu prima, ci sono esempi di canzoni che invece magari sono meno a carattere sociale, ma più a carattere intimo, personale, e ci sono cantautori che magari certe tematiche sociali le hanno toccate meno, quindi anche lì nasce da un bisogno personale dell'autore di rivedersi, no, nel contesto sociale, quindi è molto, è molto personale, secondo me, anche questo discorso, anche all'epoca, sicuramente la socialità era qualcosa di più, la condivisione sociale, ma anche perché la musica aveva un mezzo, era un mezzo diverso, cioè posto in un, in un mondo, in un, messo in un posto diverso, nel senso rispetto a quello in cui è oggi, e anche qui si potrebbero aprire altri dibattiti, è un bene o male, non lo so, è così, cioè nel senso, te lo ricordi, buonanime, tu che sei di gure, te lo ricordi? questa domanda, se dico no, mi bacchetto, no, vabbè, te lo ricordi, buonanima di Piccetti, quello di Ostaia di Banchi, no, vabbè, sai cosa diceva, però diceva una cosa saggia, diceva che, le canzoni d'amore, sono le più politiche, e le canzoni più, più sociali, sono quelle più erotiche, erotiche in senso di Eros, diceva una cosa saggia, è vero, è vero, sì sì, no, sono d'accordo, ma io sono d'accordo, cioè sul fatto che alla fine, cioè alla fine tutto quello che fai, no, è politico, politico inteso non come una politica, come la parola a cui associamo, il significato che associamo alla parola, ma politica nel senso di porti, di avere una posizione nei confronti della vita, delle cose, delle scelte che fai, no, quindi in realtà ogni scelta è politica, secondo me la cosa interessante è applicare questa politica anche nelle cose che banalmente ti sembrano più lontane da te, io per esempio, non lo so, io non seguo molto, per varie ragioni, seguo molto il calcio, ma penso assolutamente che una partita di calcio, quello che rappresenta il contesto, possa rappresentare una cosa estremamente romanticamente politica, diciamo, ecco, in questo senso, quindi, quindi, quindi sì, no, e poi è chiaro, cioè nel senso, la politica, al di là di quello che è la politica personale, ha varie sfaccettature, varie cose, insomma, la politica, quella dei palazzi, diciamo, un'altra cosa. no, ma l'altra faccia, non intendeva quello. Sì, no, però è vero, è vero il discorso anche dell'Eros, del discorso di un impegno, ecco, di un'energia, diciamo, di un caos primordiale, da questo punto di vista. Senti, senti, tu sei di Recco, sì, ora stai a Roma, quanto c'è di Recchelino in te? Quanto è rimasto? Devo dire che è rimasto, è rimasto forse molto più adesso, ma è una cosa che succede, molto più adesso che me ne sono andato, cioè è rimasto pure, è venuto fuori, molto di più, rispetto a quando, a quando invece vivevo qui. Io ho vissuto sì lì per quasi 30 anni alla fine, poi, con una parentesi a Milano, e adesso sono a Roma da, da un anno più o meno. E, in realtà, la cosa che è rimasta di più, secondo me, è un po' questa, questa cosa che forse, nella vita di, chiamiamola provincia, alla fine è un po' più, un po' più forte, cioè questa caratteristica che è Genova, quella di essere una città, un po' schiacciata, nel senso, tra due mondi, Tra il mondo, io l'ho sempre detto, un po' tra il mondo, cioè tra, tra quello che è l'orizzonte aperto, del mar Mediterraneo, tra l'altro, quindi un mare di migrazioni, di migranti, quindi pieno di storie, di viaggi importanti, ecco, e poi avere il retro, invece questa specie di sbarramento, diciamo, di montagne, che invece richiamano un po' la solitudine, no, il ritirarsi, e quindi si è un po' sempre tesi, tra queste due corde, tesi da questi due estremi di questa corda, e quando sei lì non te ne rendi conto, però quando vai fuori, questo, questo si sente, cioè nel senso che ti viene voglia di tornare, e quando sei lì ti viene voglia di andare via, e in particolare, poi, ci porta, secondo me, a creare questa specie di scorza protettiva, che tutti dicono nel classico mugugno, no, che è vero, assolutamente, però secondo me è più un, un nascondere qualcosa, una ricchezza interiore, di esperienze, anche di voglia di confrontarsi con l'altro, però, di farlo non per il gusto di farlo, cioè per il gusto di avere qualcosa di prezioso, da dire all'altro, come se l'altro fosse, un archivista, no, che ascolta un pezzo di te, e questo pezzo di te è talmente conservato bene, che quando lo condividi, l'altro se lo porta dentro come un archivista per tanto e tanto tempo, quindi, questo mi piace di portare, della mia cittadina di Genova in generale, una cosa che non mi piace tanto, in realtà lo ammetto, questo, spero, cioè a me non è mai piaciuto tantissimo, il linguaggio, il dialetto, ma non il dialetto in sé, il modo di parlare genovese, con questo appunto strascinamento, che certe volte, in realtà, dipende anche un po' lì dall'occasione, dal mood, però, non mi piace sentirmelo addosso, infatti, devo ammettere, che molto spesso qua non mi associano subito alla Liguria, come origine, anzi, non so perché, forse mia nonna era di quei posti lì, però dicono tutti, è il primo archito che sembro emiliano, nel modo di parlare, e quindi, e quindi forse non rendo onore, alla mia provenienza, mescolandomi, insomma, con altre persone, probabilmente da altre parti, però a parte il discorso del linguaggio, sì, della cadenza, della cadenza, della cocina, della cocina, a parte il discorso della cocina, questo, avere questa corazza, che rende le esperienze davvero importanti, è una cosa che mi piace portare, dietro, ecco, insomma. Sì, senti, io sono andato a girare un po' su YouTube, ho trovato un vecchio video, oddio, no, in cui tu dici che, due terrestri con Niccolò Fabi, sì, sì, è vero, è vero, sì, non è che, non è che dici delle cose compromettenti, faresti, faresti l'apertura a John Mayer, ma quello lo farei anche io, non è vero, sì, diciamo che erano un po', tra l'altro è un video, ah sì, è un video, mi ricordo, era un video del 2012, tipo, 2012, sì, perché poi ero arrivato in finale a questo concorso, io avevo anche vinto, tra l'altro, mi avevano fatto questa intervista, sì, è vero, ma su John Mayer sicuramente, anche ora mi piace ascoltarlo, e certi tipi di sonorità mi sono rimasto all'epoca, poi l'avevo scoperto relativamente da poco, tra l'altro, e quindi ero proprio fissato, però invece Niccolò Fabi, decisamente sì, Niccolò Fabi sicuramente rappresenta per me, a livello di ricerca testuale, a livello di ricerca sonora, e di quella connessione emotiva di cui parlavo prima, quella di andare a cercare la magia, anche nelle cose comuni, nelle cose che normalmente passano oltre lo sguardo, è una cosa che ricerco molto, nel senso, infatti, quando dicevo prima che era da tanto tempo che non scrivevo più in italiano, avevo quasi sviluppato un po' questa fobia dell'italiano, cioè di non riuscire, con l'inglese, di non riuscire da un lato a mantenere la mia identità musicale, per piegarla a regole banalmente metriche, insomma, di lingua, eccetera, e dall'altra, di invece non riuscire ad andare abbastanza nel profondo, con quello che dicevo, quindi con l'inglese magari può essere un pochino più fumoso, un pochino più... andare meno nel profondo, su certe cose. A proposito di metrica, volevo farti vedere una cosa. Vai, vai. Aspetta, eh. Il rimario, il rimario, il rimario di Giovanni. Eh sì. Tra l'altro è interessante perché durante un... Durante... Vabbè, apro questa parentesi. Durante un camping che avevo fatto per un concorso al CET di Tuscolano, praticamente il centro di Mogol, avevamo come insegnante Francesco Gazzè, il fratello di Max. Il fratello di Max. Che è autore di tutti i suoi... Cioè Max fa rimare anche le consonanti. Esatto, sì sì. Ma infatti aveva detto che in realtà, come strumento di potenziamento, diciamo, di scrittura, il rimario era molto... Cioè è uno strumento molto interessante, soprattutto chi ha quel tipo di scrittura così immaginifica, diciamo, che gioca tanto anche sulle assonanze. Io mi ricordo che quando me l'aveva detto all'epoca, non l'avevo capito, nel senso, mi era sembrato quasi un tradimento. Ho detto, ah ma come, usare il rimario è tipo... Ma lui rima tutto. Infatti è tipo barare, non lo so. Invece no. Cioè nel senso è un... come dire, potenziare un... uno strumento che è già tuo, no? E no, appunto, ritornando a Niccolò Fabi, cioè al discorso dell'italiano, io mi sono aggrappato un po' al suo modo di scrivere, al suo modo di dipingere le cose, di andare dentro le emozioni, e complice, diciamo, una piccola... un piccolo... anzi, un grande temporale emotivo che è successo, che è quello che ha scatenato, diciamo, tutto questo... tutto questo epit, tutte queste canzoni, a un certo punto l'italiano è venuto fuori da sé, cioè la verbosità quasi. Quindi Niccolò Fabi è un cantautore veramente... tra l'altro, questo sabato c'è il concerto al Circo Massimo di Fabi Silvestri, Gazzè, per i dieci anni del loro... Del disco, del disco, quello che... Del disco, infatti io sarò lì a vederlo, anche perché dieci anni fa ero di nuovo a Rock in Roma, anzi, li ho visti tre volte, ma Rock in Roma a vedere la data finale... Io che sono un fan di Gazzè, l'avrai capito dal rimario. Sì, sì, infatti, no, anche lui l'ho visto... Gazzè ha aperto un concerto di Max Gazzè, tra l'altro, qualche anno fa, l'avevo visto dal vivo, nel 2013 e poi avevo visto tre concerti di Fabi Silvestri e Gazzè e poi avevo aperto un suo concerto nel 2016 al Goa Boa, a Genova, e insieme ad altri artisti avevo suonato prima di lui ed è stata una bellissima esperienza di quelle, insomma, che rimangono anche con esperienze, sì, no, sì, sì, anche io, il magico trio è seguito con passione anche da me. Senti, io ti farei un'ultima domanda perché sono volati via a 27 minuti. Sì, come succede sempre perché sono logorroico, quindi... va bene, va bene, va bene. Senti, anzi due, hai parlato, hai parlato di film, se tu dovessi dare il titolo di un film al tuo percorso musicale, che titolo daresti? io darei darei il titolo, in realtà non è il titolo di un film, cioè, a me piacerebbe chiamarlo Le intermittenze del cuore, che non è un titolo di un film, in realtà. Si assomiglia molto, però, eh? Mi assomiglia molto, infatti appunto l'idea era quella di cercare un ipotetico titolo di film, ma è un titolo alternativo, anzi no, non Le intermittenze del cuore, un cuore intermittente, così non è proprio... Anche perché Le intermittenze del cuore mi ricorda una canzone della Pausini. Ah, ecco. No, 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 è un cuore intermittente, ma perché? Perché in realtà Le intermittenze del cuore, per quanto il riferimento sia popolare, mainstream, pop popolare, nel senso, in quel senso lì, in realtà Le intermittenze del cuore è il titolo alternativo che all'epoca Proust aveva scelto per la sua Recherche, non so se il primo dei sette volumi oppure per il titolo generale della Recherche, ed era un titolo sicuramente che sviava un po', secondo me, dall'idea di opera che aveva, perché era un pochino più molto interno, però mi ha colpito diciamo questi salti, queste intermittenze quali come se per un qualche secondo diciamo, il cuore non rispondesse più e tu devi dargli un bit per andare avanti e quindi avere un cuore intermittente significa avere un cuore che è costantemente alla ricerca di cose con cui essere riempito, quindi un cuore intermittente mi sembra un titolo azzeccato. E invece, sarebbe stata la prima domanda, ma invece te la faccio per ultima, facciamo finta che tu sia su un treno, perché nella sigla hai visto un treno, un treno del 1920, una roba del genere, che viaggio faresti? Se adesso fossi su un treno, se adesso fossi su un treno mi piacerebbe in realtà fare mi piacerebbe fare un viaggio, io adoro molto i treni, li ho usati, cioè in questo periodo della vita sono praticamente sempre sui treni in giro per l'Italia, su e giù, mi piacerebbe viaggiare su un treno che nell'arco di 24 ore, diciamo, mi potesse dare appoggiato con la testa sul finestrino, potesse passare attraverso tutti gli stati d'animo e di paesaggio che si possano immaginare, dalla città più futuristica al mare, alle colline, a delle casette popolari e anche i colori diciamo dello sfondo cambiassero, un po' come il finale di La La Land, quando lui inizia a suonare il piano e senza dire racconta la storia di come sarebbe stata tra le due e viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, quindi sì, un treno che mi permettesse non per sempre ma nell'arco di 24 ore di fare un viaggio attraverso le emozioni, lo spazio, il tempo per cogliere magari tutto quello che quante più suggestioni possibili si possono avere? Diciamo che ti do 48 ore e diciamo che vai da Roma a Oslo da Roma a Oslo ecco ma allora allora il viaggio Roma a Oslo sarà un giorno prenderò il biglietto Roma a Oslo e mi immaginerò appoggiato al finestrino i vari paesaggi li vedi tutti eh infatti infatti per fare grazie per il suggerimento allora lo prenderò prima o poi nella vita lo farò assolutamente bene noi ringraziamo Filippo Ghiglione i temporali e gli diamo diamo appuntamento alla prossima occasione grazie mille davvero Luca grazie a tutti a tutti è stato un piacere sigla buonasera buongiorno avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus alla prossima occasione